Alle nostre spalle c'è il palco dove fra un'ora circa suonerà la prima orchestra che apre l'edizione 2018 di Umbricelli e Sport e non possiamo che parlare con Giuseppe Baldacchini che è il manager musicale anche di questa edizione e non possiamo che chiedergli quali scelte ha operato per questa sagra di fine estate. La nostra scelta è sempre orchestre locali, non grosse spese perché la gente è una sagra, si deve divertire, qui è tutto gratis, si divertono, orchestre normali chiamiamo, un livello medio di orchestre. Quali sono i musicisti che apriranno questa serata? Questa sera abbiamo un'orchestra Una Tantum che aprirà questa serata, poi domani sera abbiamo Valli e Palma, un'altra bella orchestra, poi lunedì sera un'esibizione di scuola di ballo perché è una festa dello sport e anche questo rientra un po' sullo sport di questa festa, sul tema della festa. E poi quando non ci saranno esibizioni come quella che ricordavo qualche istante fa, tutte le sere ci sarà un'orchestra che permetterà al pubblico di ballare in questa piattaforma che è bellissima. Sì, tutte le sere c'è l'orchestra, fortunatamente viene sempre tanta gente a ballare perché è una pista che si balla benissimo, siamo contenti, va benissimo. E c'è, possiamo anche dire, la particolarità che ci sono tante seggioli a bordo, pista gratuitamente. Fino alla nostra politica non far pagare seggioli perché è una sagra, è una festa, la gente deve venire e stare tranquilla, basta quello che vengono a mangiare e ci basta quello a noi. Bene, quindi diciamo davvero che a Capanne lì si va all'insegna del divertimento pure. Sì, sì, noi cerchiamo di mettere il cliente che vede qui allo suo agio cercando di contenere anche la spesa del cliente perché i tempi sono un po' difficili, far pagare la seggio, ci sembra un po' troppo. Bene, allora non ci rimane che augurare buon lavoro anche a Giuseppe e soprattutto alle orchestre che suoneranno qui a Capanne. Grazie.